L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti, il sarrismo e la cappa di Pantofole. Ieri a Napoli si è visto davvero poco del gioco di sarr, il gioco fluido, rapido, anche se si è visto a tratti, per certi versi, insomma, quindi passaggi rapidi, in orizzontale, molto molto rapidi, il movimento delle punti più discorrenti, partito uno splendido, di Guain e Dybal, qualcosina non altro, ma un po' tutti poco presenti, squadre attratti da volso dal gioco, insomma, compassata, superficiale, anche presuntuosa, per certi versi, ma molto più grintoso, e che si è impegnato anche di più, però io, magari potrebbe essere una partita da 0-0 la spianata, un errore di Cesni, però, ripeto, il gioco, tanto è cantato da Sari, si è visto, poco o nulla, andiamo a stare questi 6-7 mesi, fino al 15, febbraio, 15 marzo, poi magari ne riparliamo, adesso come è adesso, ripeto, però, si vede ben poco, forse è stata lei che l'avremmo massacrato prima, artiste esistenziale, buona giornata a tutti.